esterna a te come faccio a vivere se la mia vita e il mio lavoro è un insopportabile routine commento la routine della tua vita e del tuo lavoro sei tu e ciò che ti serve per trascenderti non è un'esperienza esterna a te di cui ti puoi liberare il suicida non si libera della sua vita la trasferisce in una prossima vita quella che tu chiami routine e la maschera e la personalità che necessariamente indossi in questa vita